Ho fatto 13, con la scheda dì. Ho vinto 500 mila euro. Ancora dovevo prendere i soldi, è arrivata la lotteria d'Italia il 6 gennaio, ho vinto il secondo premio della lotteria. Quanto? Un milione di euro. Tu immagini. C'è una cosa assurda, non so se gioire per una cosa o per l'altra. Hai vinto pure il viaggio? Mi ha chiamato il notaio, ma io ho pensato, vado a riscuotere i soldi. No, il notaio dice, vedi che lei ha vinto un viaggio in India. Sì, perché ha partecipato e sono partecipato in India. Ma guarda, bellissimo, veramente, un albergo bellissimo. Sono andato sulla camera, fantastico, ho aperto questa camera. Stava sulla poltrona, nella mia camera, una donna bellissima, con capelli lunghi, scuri, questa ragazza indiana, che mi guardava da xxi, come dice venuto, come se mi aspettava a me. Ho fatto le cosette orche, eh? No, ragazza indiana. Quale cosette orche? C'è proprio quelle indiane? Quelle che hanno il bollino rosso. Bravo, bravo, avevi il bollino qui, il rosso, quel bollino rosso. Come ho grattato il bollino? Ho vinto la Peugeot 206. Non è sempre.